Musica Osserviamo dinnanzi alla nostra postazione la barca a remi dell'istituto che ha effettuato il cambio di pace e abbiamo anche una novità per quanto concerne il comando dell'imbarcazione stessa Osserviamo a timone il professore Federico Zon, insegnante di navigazione Una lettera e il vento sta portando via Un timone